Un nuovo progetto di housing sociale di Fondazione Cariplo per il VCO a Verbania rientra nell'ambito di sei iniziative sul territorio piemontese e lombardo finanziate con 1,8 milioni di euro. Il progetto housing sociale di Via Simonetta di Gruppo Abele di Verbania Onlus prevede la riqualificazione di una palazzina di tre piani di circa 500 metri quadrati dove realizzare tre alloggi, 12 posti letto. Le abitazioni saranno assegnate a nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità, persone con problematiche psichiatriche stabilizzate o con problemi di dipendenza in reinserimento, ex detenuti o migranti, in particolare vittime di tratta, in uscita da percorsi protetti o dai centri di accoglienza. La dimensione abitativa rappresenta uno spazio cruciale sia per recuperare, mettere alla prova, mantenere la capacità di vita autonoma di chi è fragile, sia per affrontare fasi transitorie di difficoltà e se declinate in modo mirato può migliorare in modo determinante la condizione di benessere delle persone. I sei progetti sostenuti permetteranno l'avvio di nuovi interventi di abitare sociale, rivolte in modo mirato alle categorie sociali più bisognose, mobiliteranno risorse locali altrimenti non disponibili e attiveranno percorsi di accompagnamento e di sostegno all'autonomia delle persone accolte. Inoltre le iniziative permetteranno la realizzazione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica di immobili con una conseguente riduzione dei consumi di energia e un minore impatto ambientale. Il progetto del territorio del Verbano Cusiossola desidera creare servizi primari e segnare un cammino di autonomia delle persone che ci abiteranno. Credo che Fondazione Cariplo abbia avuto una visione lungimirante e concretamente utile alle comunità promuovendo ormai da anni risposte ai bisogni abitativi, ha commentato Giulia Margaroli, membro per il VCO della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo.